Maio, allora, ha incontrato insieme a Sergio Pirozzi, che cosa le ha detto, di cosa ha bisogno adesso Amatrice e soprattutto è pronto a indossare gli scarponi? Gli scarponi già c'erano, in ogni caso, noi facciamo le leggi a Roma in Parlamento, ma non è detto che le leggi funzionino perfettamente, dobbiamo renderci conto sul campo se le leggi stiano funzionando oppure no. Abbiamo votato un decreto che si occupava del sisma in questa zona del centro Italia e quel decreto adesso dobbiamo verificarne il funzionamento. Io credo che sia stata un'idea giusta, molto importante, portare i parlamentari qui, farli stare due o tre giorni e farli rendere conto con i loro occhi di cosa stia funzionando e cosa no. Se una legge poi non funziona, si cambia o si sistema. È un concetto anche più grande, immaginiamo se i parlamentari fossero obbligati ogni mese a fare la vita un giorno al mese dell'insegnante colpito dalla buona scuola e il lavoratore colpito dal Jobs Act. Probabilmente smetterebbero di parlare le leggi elettorali e si occuperebbero di problemi concreti. Che cosa le ha chiesto concretamente a Pirozzi? Alla fine di questi tre giorni poi faremo un consuntivo. Per ora ci sono tante questioni sul tavolo e le vedremo un po' alla volta sul campo. Pirozzi ha detto che è molto soddisfatto di questo decreto terremoto. Sì, infatti è stato votato all'unanimità dal Parlamento. Come dicevo però, come ogni legge bisogna verificare se funzioni oppure no. Quanti cittadini hanno accolto con gioia buone leggi e poi si sono resi conto che quelle leggi non funzionavano nella vita reale? Noi siamo molto preoccupati che tutto funzioni veramente qui. Perché se non sta funzionando qualcosa, se ci sono dei ritardi, se ci sono le cose da sistemare, abbiamo il dovere sia di modificare le leggi o di stimolare gli enti preposti a fare quelle cose. Quanti siete del Movimento 5 Stelle oggi? Due, perché al massimo due per delegazione. E di me a dove dormirà stanotte? Mi ha detto il sindaco in tenda. È pronto? Sì, assolutamente. Ovviamente le persone che dormono in tenda da mesi sono quelle a cui va il nostro pensiero. Ovviamente non abbiamo chiesto alcun tipo di altra allocazione se non quella a cui hanno diritto tutte le persone che stanno qui.